Poliziotti e criminali si abituano presto a quelle luci rosse e blu. Ma non importa quante volte le hai viste, possono sempre farti gelare il sangue nelle vene. Perché sai che una volta o l'altra toccherà a qualcuno che conosci. Grazie a Dio, stai bene. No, no, Joy, Joy, no! Bannazione! Tenente, l'ho beccata mentre saliva dalla scala laterale. Dice che è amica del prete. Dov'è padre McCauley? Sta bene? Portala nella mia macchina, voglio interrogarla io. E qualcuno dica a Broils che la porta non si sorveglia da sola. Sì, signore. Non è una domanda difficile, per favore! Baci piano con lei. Ehi, qualcuno sa dove è Baxter? No, né alla centrale né nel suo appartamento. Niente. C'è decisamente qualcosa che non va. Sul serio? Non ho mai visto niente del genere. Un dannato Rebus. Ecco che cos'è questa roba. Sembra veramente folle. Folle? Devo trovare la scena del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Non ho mai visto niente del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Non ho mai visto niente del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iris? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti prego, lasciami. Mi dispiace, ti prego. No, ti prego, fermati. Che cosa vuoi? Ti prego, fermati, fermati! Dannazione. Se fosse rimasta all'ospedale, sarebbe ancora viva. Non lasciarti travolgere da ciò che ti trattiene qui. Ricordati, non è stata colpa tua. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma che ci faceva qui l'assassino? No. 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 Ah, merda! Signorina, mi sente? Quella ragazzina che scappava. Era lei che cercava, non noi. Grazie a tutti. Possibile che abbia fatto tutto da solo. E' ora di andare a bere qualcosa. Ok, gente, facciamo questa foto. Il ricevimento ci aspetta. Venite tutti qui. Ehi, sta bene. Ok, va tutto bene. Stiamo calmi. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. È qui. Senti, stai indietro. Hai capito? L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! No. No, no. Questo non è un normale omicidio del killer della campana. Questa gente non c'entrava niente. Lui voleva Iris. Forse c'è qualche indizio nella stanza di Joy. Oh, no. E adesso come lo dico a Joy? Perché l'assassino era qui? È morto, cercano di me. Non credo che Joy la prenderà molto bene in ogni caso. Cazzo. Non credo che io l'assassino. Non credo che io la prenderò. Non credo che io la prendere. Grazie a tutti. 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 No? Grazie a tutti.